Gianluca e Federica di Solarussa, tra gli organizzatori di questa fiacolata che esiterà stasera qui a Solarussa. A che ora inizierà? Allora, l'incontro sarà al Viale della Stazione, al Viale Berlinguer, alle ore 19.30. Verranno distribuite le candele. Quante avete presi posto in candele? 5.000. Poi la partenza sarà nella Piazza del Monumento, alle ore 20.30. Poi si seguirà un percorso. Diciamolo questo percorso. Allora, quindi la partenza dal Monumento dei Caduti, poi le vie principali del paese. Qua non si vedranno. Ne sappiamo, sono indicate? L'arrivo sarà al municipio. Dove sarà allestita la Camera della Tè. Un invito a partecipare? Sì, alla veglia che si terrà dopo la fiacolata. Come ve lo ricordate, Matteo? Un bravo ragazzo. Una... Una brava persona. Una bravissima persona. Sempre disponibile. Una persona leale. Una brava persona.